che palle inizio ad aver paura per il 4 inizio ad aver paura per il 4 adesso finchè ci sono gli scandali è giusto dirlo però obiettivamente è una scesa di vita che poi si gioca l'inter è forte c'ho il cazzo da dire c'ha quei 5-6 tenori lì davanti che guarda anche adesso che azione di frattese che palle che palle c'ha Lautaro, Turam, Cialanoglu, Mkhitaryan, Di Marco che palle che palle bastoni che due coglioni ha vinto anche oggi adesso so già alcuni cosa diranno ah ma la Lazio fa cagare da serie B oggi oggi che gioca contro l'inter è da serie B perché è stata annichilita è stata presa a cazzo in culo una squadra di merda però fino a ieri era una squadra informissima perché vinci con la Roma in Coppa Italia non ha fatto un tiro in porta non ha fatto un tiro in porta a sta squadra del cazzo un cazzo da dire, un cazzo da dire sono forti, sono forti in culo ho paura, ho paura per il 4 perché non è vero se non forma però questi giocano, minchia se giocano minchia se giocano sarà un gran partitone però questi sono in casa e minchia se giocano io spero che si spompino in finale ma che cazzo ne so che cazzo ne so fatto stare che oggi che cazzo gli devi dire che cazzo gli devi dire cazzo gli devi dire cazzo di Giuda che cazzo gli devi dire ho fatto anche la live ma cosa gli devi dire ci ha fatto un'azione con Barella che prende la traversa e che ho detto ma basta ma dai Barella non è vero che giocano così non è vero fino a tre anni fa faceva incagare che cazzo gli squadroni sono diventati 4 meno male che no che due coglioni che due coglioni ma un calo un bel calo di quello di un mese e mezzo no no c'erano i cali di mezza partita poi noi non vinciamo e ci attacchiamo al cazzo ma che due panni che due panni è un cazzo da dire cazzo da dire io boh io di Marco boh io non capisco il cacchio cioè questo di così da un giorno la lotta in un anno poi è diventato un fenomeno un fenomeno un fenomeno un fenomeno cazzo gli devi dire cazzo gli devi dire cazzo l'autaro l'autaro non è mai stato così cioè l'autaro è sempre stato quello che ti fa un mese da fenomeno poi sei mesi da coglione quest'anno è solo un fenomeno non lo fai più un mese da coglione no 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 frattesi entra fa gol tutte le volte ci hai rotto il cazzo cazzo gli devo dire affanculo sarri vaffanculo tu è sarri ball mi ci ha fatto sperare quattro no sarri ball che cazzo parliato sono tre pere come minimo quando giudo il video fanno quattro un cazzo non so cosa dire non so cosa dire cosa vi devo dire che cazzo vi devo dire che cazzo vi devo dire 3 a 0 che cazzo vi devo dire niente scrivetevi ai commenti cosa ne pensate iscrivetevi al canale ciao grazie mille